L'anno scorso abbiamo fatto una mostra con le opere di Albano Torini, quest'anno proseguiamo con immagini femminili di Antonella, quindi grazie Antonella, speriamo che vada bene la mostra sicuramente, io sono entrato però non l'ho guardata, voglio guardarmela piano piano e per vedere proprio i tuoi tratti d'artista, va bene? Quindi grazie. Io sono molto contenta di essere qua, ne ho un tabatto con Federica, abito qua vicino, quindi per me è sempre molto emozionante stare vicino a casa, è stato emozionante a Paolo e lui è stato emozionante a Sespra anche qua, nel senso che sono dei paesi a me vicini dove la gente li conosce e siccome quando si fanno i quadri si mettono in mostra delle emozioni è sempre molto corte a farlo, è molto più semplice esporli in un posto dove nessuno mi conosce, quindi per quello che sono così emozionata e così agitata da questa cosa che ormai dovrei avrei separato, ma non ce la faccio. Sì, sono tutte immagini femminili, non solo, però principalmente. Spesso mi chiedono perché io dipingo le donne, al di là del fatto che è da sempre che si dipingono le donne, cioè perché mondo in mondo i fattori dipingono i corpi e i visi femminili perché sono molti più emotivi e molto più comunicativi normalmente di altre. E poi perché sono una donna e quindi attraverso di loro io esprimo qualcosa, ogni volta che finisce un quadro per me è qualcosa che io esprimo e come ho scritto e come ho detto e come c'era anche sul giornale, fino a quando il quadro non mi guarda io non lo lascio andare perché se è statico, se non comunica qualcosa per me non va bene e quindi quando mi guarda giorno non mi guarda uno dotore che è voluto! bellaudible anche allora può andare... kas ma non ci sono dermatologiche ho fatto il quadro benissimo sono un'ocvento, rumors sono am break dagli anni fuori rendi lontano No, 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 no.